Nome? Ezio. Quanti anni in Valvitalia? Undici anni e qualche mese. Di cosa ti occupi in Valvitalia? Sono responsabile del reparto collaudo valvole. Cosa vuol dire collaudo? Noi proviamo se la valvola funziona. E funzionano le tue valvole? Assolutamente sì. Qual è stata la sfida più grande affrontata in questi anni? Ce ne sono state molte di sfide affrontate, per fortuna le abbiamo vinte tutte. Tre aggettivi per descrivere Valvitalia? Questa devi tagliare. Aspetta e fammi, dammi un attimo, cioè no perché se gli ho gli aggettivi anche strani. Forza, caparbietà e familiarità. Sei a casa in ferie, al collaudo hanno bisogno di te. Cosa fai? Arrivo. Se potessi dare un consiglio a un futuro collaudatore di Valvitalia, che consiglio gli dai? Vieni e impara a collaudare. Un'ultima cosa ti chiedo. Sei in partenza per un'isola deserta. Puoi portare solo una cosa o una persona con te? Cosa o chi porti? Mia moglie.